Seguimi Che cosa mi hai fatto? Ho scelto una forma per te più familiare Per facilitarti la navigazione Abbiamo atteso nel mondo di una vita Tu, che porterai a lui l'ultimo pezzo Per chi possa aprire la porta Io non capisco Non serve, le mie parole fanno male Ma non è mia intenzione Sei importante ragazzo E in modi che non pure immaginano Proprio ora Forza oscura ci sta E si preparano a controllare la vita Se ci riusciranno Il santuario verrà violato Appartiene a uno spirito Passato Presento Futuro Molti sono collegati a te Non otterrai alcun risultato L'accesso prematuro distruggerà la zona Il villaggio e i suoi abitanti verranno distrutti Cosa devo fare? Troverai un uomo che ti fornerà l'addestramento giusto Circa questo simile Di certo hai molte domande Il tempo porterà le risposte Per ora devi obbedire Forza oscura kiare Avaterial Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.